Come bloccare le celle utilizzando il dollaro? Argomento fondamentale questo per poter utilizzare al meglio Excel Partiamo dalla tabella che abbiamo usato nel tutorial precedente e andiamo ad aggiungere alcune righe nella parte alta in maniera da andare a modificare leggermente la nostra struttura e poter così capire quando è utile utilizzare il dollaro In questa tabella vado a scrivermi sconto e nella cella in fianco mi scrivo 10% Bene, vado ad aggiungere una colonna nella quale cambio l'intestazione scrivendo sconto Il nostro scopo è quello di trovare la montare dello sconto per ciascun prodotto quindi calcoleremo lo sconto del 10% in questo caso sul prezzo totale Partiamo da una considerazione fondamentale che avevamo visto nel tutorial precedente Quando noi prendiamo una formula e la trasciniamo verso il basso Excel si accorge che noi stiamo cambiando riga quindi andrà semplicemente a prendere i numeri dei riferimenti delle celle e andrà a incrementare questi numeri Quindi B5 e C5 andando giù mi diventano B6, C6 B7, C7 Quindi la colonna non cambia perché mi sto muovendo verso il basso Quello che cambia è il numero della riga Bene, questa logica qui ci servirà per capire come andare a modificare la nostra formula utilizzando il dollaro Mi posiziono nella cella dove voglio calcolare lo sconto e scrivo uguale prezzo totale per e vado a prendermi la cella dello sconto quindi F2 Do invio Mi da 600 corretto F2 da tastiera e vedo anche con i colori che ho preso le coordinate corrette Bene, non faccio altro che prendere questa formula e trascinarla verso il basso Mi accorgo però che c'è qualcosa che non va Come faccio a rimediare? Faccio doppio clic all'interno di una cella Questo è il modo migliore per capire come risolvere i nostri errori Non serve cancellare e riscrivere perché molto probabilmente rifaremo gli stessi errori Faccio doppio clic in una delle celle e già i colori mi mostrano che una delle due coordinate non è corretta In questo caso mi sta prendendo correttamente D7 ma invece che prendere F2 mi prende F4 Bene, la coordinata precedente, la formula precedente aveva lo stesso problema Mi sta prendendo F3 invece che prendermi F2 Come mai succede questo? Beh, il problema sta nel fatto che Excel giustamente aggiunga la nostra formula seguendo il nostro movimento Siamo andati verso il basso quindi il 5 del D5 mi viene cambiato in D6 e questo mi va bene Il 2 dell'F2 mi diventa F3 perché sto scendendo verso il basso e poi F4 Quindi Excel sta aggiornando correttamente le formule Sono io in questo caso che ho una struttura di tabella un po' particolare nel senso che ho delle formule che fanno riferimento a una cella esterna Io devo essere in grado di dire a Excel guarda che quando prendo questa formula e vado verso il basso questo F2 non deve diventare F3, F4 deve rimanere F2 Qual è il modo per fargli capire questa cosa? E' quello di anteporre il dollaro Il dollaro va a bloccare quello che viene subito dopo quindi in questo caso mi blocca il 2 scrivendo così e trascinando verso il basso noi otteniamo il risultato corretto Vado a verificare qui ho D6 per F$2 D7 per F$2 Quindi torno nella prima Il dollaro va messo subito prima del 2 perché il mio problema qui è di riga Se io avessi scritto in questo modo qua dollaro F2 che cosa avrei ottenuto? Beh, non avrei risolto il problema che avevo in partenza perché in questo modo io sto bloccando la colonna F ma avevamo visto prima che il problema non era nella colonna F era nel 2 in questo modo qua sto lasciando il 2 libero di variare quindi in questo modo qua non andrei a risolvere il problema avrei scritto una formula non corretta questa è la formula corretta al massimo potrei aggiungere il dollaro anche davanti alla F questo non avrebbe nessun influsso sulla mia formula quindi il risultato corretto quindi bloccare con i 2 dollari potrebbe anche andare bene non ci piace perché? non ci piace perché in questo caso il dollaro davanti alla F è ridondante e se ci abituiamo a mettere i 2 dollari sempre prima della colonna e prima della riga arriveremo in quella situazione in cui abbiamo bisogno solamente di un dollaro e non sappiamo farlo perché abbiamo sempre messo i 2 dollari ci siamo abituati a utilizzare la via più semplice invece ragioniamo un attimo su dove va messo il dollaro e utilizziamo se possibile un solo dollaro quindi qui devo scrivere F$2 lo invio, eccolo qui, trascino ed ecco che ho la formula corretta grazie al prossimo video